Siamo nel parco del Casale, sono praticamente ultimati i lavori di manutenzione straordinaria del parco, dal verde alla messa in sicurezza delle giostrine, della torre del piccolo castello che vedete alle mie spalle e soprattutto la messa in sicurezza anche dell'aria prospicente al pattinodromo con la nuova ringhiera e con tutta la messa in sicurezza dell'edificio sul pattinodromo si realizzeranno in seguito i lavori appena verranno appaltati. Insieme al parco del Casale si è lavorato sul parco della Commenda, quello alle spalle di Santa Maria Usiliatrice, anche lì sono stati fatti tutti i lavori necessari e a breve, entro i prossimi due o tre giorni, verranno riaperti al pubblico, così come confidiamo di completare i lavori al parco dell'ex collegio Tomaseo per la fine del mese per poter aprire anche questo a tutti i cittadini. Si avvia quindi a conclusione una stagione intensa di lavoro che ha visto appunto anche impegnato molto nel Cillarese, avrete visto la cura del parco che oggi è veramente un'eccellenza a livello regionale, non solo ovviamente cittadino, e l'appuntamento quindi è entro questo fino a settimana in tutti i parchi della città di Brindisi.